La notizia è passata quasi inosservata, eppure riguarda un capitale immenso. Ce ne fornisce l'occasione l'attuale esposizione di costumi teatrali relativi alle opere di Giacomo Puccini e trasferiti occasionalmente nella Casa Natale del Maestro in Corte San Lorenzo a Lucca. Questi costumi teatrali provengono dalla fondazione Ceratelli. Chi era Ceratelli? Arturo Ceratelli fu uno dei primi baritoni che interpretò la bohème di Giacomo Puccini e che nel 1914 aprì a Torino una sartoria, destinata poi a diventare celebre in tutto il mondo. Perché da quella sartoria sono usciti ben 30.000 costumi e reperti per teatro, per danza, per cinema che sono stati indossati da celeberrimi artisti in tutto il mondo. 30.000 abiti di una bellezza e di una storia unici. Ovunque siano esposte queste coloratissime ombre del passato, illuminano una arte italiana di lunga tradizione, magica, anche perché fatta a mano e anche per questo irripetibile. Ma la fondazione Ceratelli deve fare ancora, vuole fare ancora, passano avanti, diventare un museo perché tutti possano accedere a questa meraviglia. La regione toscana può aiutare, tanto più che la moda, è una nostra eccellenza. Grazie per la visione! Grazie a tutti!